E' un fulmine a Ciel Sereno, quello che si è abbattuto in casa Scandone. Gli avvocati Fabio e Achille Benigni sono stati sollevati dall'incarico. Dopo Luciano Basile, l'assemblea dei soci della Sidigas ha chiuso il cerchio su una vicenda apparsa fin troppo chiara dal principio e che ha trovato corpo e sostanza negli ultimi giorni. La volontà era quella di tarpare le ali a chi stava provando a salvare la Scandone dal fallimento e per farlo bisognava prima liberarsi di Basile, rimpiazzato nei giorni scorsi dalla dirigente Sidigas Goffredo Solimeno. E' molto probabile adesso che la prossima mossa sarà quella di staccare la spina alla Scandone nel 1948 e dunque mettere fine alla sua gloriosa storia fatta di 73 anni. Intanto, per quanto riguarda il presente, continua il pressing di Gennaro Canonico. Il manager irpino ed ex DG della Scandone lavora sempre su tre piste per riportare la B in città ma il cerchio deve stringersi al più presto perché c'è tempo fino al prossimo 12 luglio per completare ogni tipo di acquisto del titolo sportivo.